Ciao, sono Filippo Accorinti e benvenuto su ImTrader. Se stai cercando di trasformare la tua passione per le scommesse sportive in una vera opportunità di guadagno, sei nel posto giusto. Ho creato ImTrader per condividere le strategie e gli strumenti che mi hanno permesso di fare del training sportivo la mia professione. Qui troverai servizi su misura per ogni livello, nel mio libro, che ti guiderà passo dopo passo, alla sala pronostici, dove condivido i miei suggerimenti per scommesse vincenti. E se vuoi fare un salto di qualità, il software MyMind sfrutta l'intelligenza artificiale per offerti l'analisi statistiche dettagliate su ogni evento sportivo, replicando il pensiero di un trader professionista. Ma non è tutto, abbiamo anche il copy trading automatico per replicare le operazioni direttamente sul conto Betfair e il corso di training sportivo per insegnarti le strategie avanzate che utilizzo ogni giorno. E se vuoi una formazione completa, ti aspetta l'Academy, l'unico percorso all inclusive in Italia per diventare un trader sportivo professionista. Unisciti a noi, Sommitrader, e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. Inizia oggi stesso il tuo viaggio verso successo nel trading sportivo. Ciao! Grazie a tutti!